Renzi è un venditore di pentole, da 80 euro in cambio del voto alle europee, scrive Grillo sul suo blog. È il più bugiardo di tutti, i premier incalza il leader dei 5 Stelle e sul tema lancia un sondaggio sul web. Abbiamo capito che Renzi vende le pentole senza i coperchi, le sue promesse sul fisco non hanno coperture. L'Unione Europea l'ha bacchettato duramente e lui lunedì correrà dalla Merkel a chiedere scusa umilmente. Il Movimento 5 Stelle propone un vero taglio dell'Irap e sa dove prendere i soldi per ridurre le tasse.